Un telespettatore ci ha segnato lo stato di degrado del Prato di Arezzo, che dovrebbe essere forse il parco per eccellenza della città, sia per la posizione, per il panorama, per la vicinanza al Duomo di Arezzo. Ebbene, già eravamo stati qui qualche mese fa, ma la situazione sembra essere peggiorata. Ad esempio, guardate com'è ridotto il monumento al Petrarca. Questa è la parte posteriore, quella che si rivolge verso la fortezza, dove attualmente ci sono dei lavori di recupero. Vedete scritte da tutte le parti, disegni. Insomma, qui nessuno pare che si curi di come questo monumento al Petrarca venga tenuto nella parte posteriore, perché la parte davanti, che rivolge invece verso il Duomo, sembra quasi intatta. Non solo, non si sa bene neanche da quanto il prato qua non venga ripulito in modo dovuto, perché per terra le carte, le sigarette, davvero ne è pieno purtroppo questa, che potrebbe essere una bellissima aria verde, ma anche di aria verde non è che ne sia rimasta tanta. Tanti alberi, ma anche di erba in certi tratti. Adesso ce n'è ben poche. Insomma, non sono le condizioni idonee affinché venga mantenuto a questa, che è davvero una bellissima zona di Arezzo, una tra le più belle. Non ci sono le condizioni al momento, appunto perché venga tenuto con cura. Sembra invece che ci sia un certo disordine, una certa scarsa pulizia e poi queste scritte che certamente sono anche un'offesa, possiamo dire, agli stessi aretini.